Si incantò, Ferdinando, nell'immagine di una corsa nei boschi. Si incantò come quando capita che nella mente scorrano immagini e le parole non si mettano in fila, o come quando si fissa qualcosa, lo sguardo vago e lontano. Invece gli occhi osservano dentro pensieri e ricordi che sfarfallano, che si inseguono e che sfumano. Ferdinando è arrivato ad un momento importantissimo della sua vita perché lui deve decidere cosa fare e davanti a lui scorrono le immagini dei mesi trascorsi sul set accanto a Visconti, a Girotti, a Lavalli, ad Aldo Graziati. Perché fare del cinema per lui era un'occasione, una delle tante che la vita gli ha messo davanti e che lui ha afferrato perché vuole invecchiare senza avere il rimpianto di non averci provato. Adesso ripensa a tutto e questi frammenti scivolano davanti ai suoi occhi e ripensa a Liliana la prima volta che l'ha incontrata e l'ha incontrata grazie alla fotografia quando lei è entrata nel suo studio di fotografo perché doveva farsi i ritratti per partecipare anche lei ai provini di questo film sul risorgimento. Ricorda Liliana la bellezza che aveva questa ragazza, che ha Liliana, che è una bellezza senza vanità e quegli occhi, occhi che ridono da dentro, si diceva Ferdinando. E poi questo colore degli occhi così nero che gli ricordava la notte da cui è spaventato e attratto allo stesso tempo ed è un po' questo il sentimento che entrambi avvertono di provare l'uno per l'altro. Cioè un sentimento che li attrae ma allo stesso tempo li spaventa. Ogni volta che Ferdinando è davanti a lei diventa ancora più brusco nei modi, fa fatica con le parole. Lui si incanta molto spesso e molto spesso sente che appunto le parole gli si fermano in gola e non riesce a dirle. E lei, lei lo stesso, lei quando ha davanti Ferdinando ha come la sensazione di uno stordimento. Probabilmente il loro è un incontro profondo, un incontro di chi appunto è legato da un sentimento che nemmeno loro sanno dare un nome perché sono troppo giovani ed è anche la prima volta che lo provano. E Ferdinando sta pensando a tutto questo in quel momento, quel momento che è arrivato alla fine appunto del cinema, del set ormai sta smontando. E lui sa, sa adesso, anche grazie al cinema, qual è il nome di questo sentimento che lo lega a Liliana. Però sa anche che non potrà continuare a fare il cinema. Lui deve continuare a fare il fotografo perché ha bisogno di un tempo diverso. Per lui la fotografia è questione di tempi, è ascoltare il tempo che viene da dentro ed è un tempo che nella fotografia mettendosi dietro all'obiettivo si dilata, gli permette una pausa, quella pausa che insieme gli fa cogliere la realtà con relazioni diverse, gli fa cambiare lo sguardo e avvertire da dentro quel suono che per lui corrisponde anche al click della macchina fotografica, al suo ritmo interno che è poi il suo cuore. E Ferdinando ha capito anche grazie al cinema che la vita è sempre una questione di tempi, tempo corretto, tempo sbagliato, click. Lui doveva essere in auto con Aldo. Poi, poi le cose sono andate diversamente perché la vita è appunto hai visto e hai sentito giusto, unire i due sensi, la vista e l'udito, occhio e orecchio. È così che è successo per lui. Ha visto e sentito giusto. Doppio click. Grazie.